In attesa della presentazione ufficiale di questo pomeriggio di Antonino Asta e Giorgio Repetto, in casa Teramo ci si aspetta dal mercato una vera e propria rivoluzione. Allo stato attuale solo Caidi, Speranzi e Altobelli sono certi di far parte della rosa della prossima stagione. Per tutti gli altri, se non è un via libera, poco ci manca. Nel senso che, con qualche punto interrogativo accanto ad alcuni nomi, Ilari e Di Paolo Antonio ad esempio, tutti sono sulla lista dei potenziali partenti. Ora bisognerà vedere se ci sarà o meno la possibilità di trovare altre destinazioni o se, in caso contrario, bisognerà procedere alle risoluzioni contrattuali incentivate. Ma quello che appare, preso che certo, è la volontà da parte del diavolo di fare piazza pulita e ricostruire un organico tutto nuovo che non si porti dietro le scorie di un'annata da dimenticare. Ma sarò comunque Asta, con Repetto, a dare la valutazione definitiva dei nodi da sciogliere, considerando che, a fronte di un sostanziale risparmio sugli ingaggi dei giocatori da effettuare quanto prima, ci sarà più margine di manovra per muoversi sul mercato in entrata, considerando quello che dovrebbe essere almeno il modulo di partenza dell'ex allenatore della Feralpi Salò, il 4-3. Le scelte saranno fatte presupponendo che la batteria ed esterni d'attacco va totalmente ricostruita, visto il probabile addio anche di Mirko Petrella, ad oggi l'unico che può interpretare naturalmente quel ruolo in mezzo al campo. Se dovesse arrivare Polidori dalla Pescara con Barbuti a fare l'alternativa, almeno in zona centrale il diavolo sarebbe a posto. Per quanto riguarda la difesa invece l'arrivo più concreto è quello di Cristian Ventola, sempre dalla cantera bianca azzurra, ma è chiaro che non saranno gli unici due elementi a fare il tragitto Pescara-Teramo. Tutto va fatto con una discreta velocità, visto che tra qualche settimana inizia il retiro precampionato. Dopo la conferenza stampa Asta tornerà rapidamente a Torino per poi tuffarsi definitivamente nella sua nuova avventura, che dovrà essere di riscatto per lui e per il Teramo. Intanto in ottica iscrizione alla prossima Serie C, alcune compagini sembrano già accusare i primi problemi. Ad oggi sarebbero 59 le squadre pronte alla partenza del nuovo campionato, considerando il forfè del Latina retrocesso dalla Serie B ma non iscritto. E allora le maggiori attenzioni si rivolgono verso le situazioni più delicate, e sono quelle di Como, Mantua, Mestre, Catanzaro, Messina, Maceratese, Fondi, Vicenza e Acragas. E non è detto che possano essere le ultime, per una Serie C che potrebbe vedere la sua geografia presto condizionata da eventuali addi o ripeschiaggi.